Bene, ben ritrovati. Vediamo oggi di affrontare la discussione sui numeri razionali e sulle frazioni in generale. Abbiamo visto che siamo passati dai numeri naturali ai numeri relativi e ai numeri razionali per estensione, in modo tale che, ad esempio, in Z fosse interna anche la sottrazione e in Q fosse un'operazione interna anche la divisione, ok? Quindi per Q, il simbolo Q maiuscolo, prende il nome di numeri, insieme a dei numeri razionali. Attenzione, razionali. Da ratio, latino che vuol dire rapporto. Allora, un numero razionale Q, chiamiamolo X, che qualunque sia X, è esprimibile come il rapporto tra A e B, con A e B, entrambi interi. E B, diverso da zero, ovviamente, per gli stessi motivi. Quindi, proprio per questa ragione, sono numeri che sono dei rapporti. Cioè, un intero diviso un altro intero e possono avere il loro segno, positivo o negativo, ok? Questa espressione, A fratto B, prende il nome, generalmente, di frazione. E si legge, ad esempio, A fratto B o A su B o A diviso B. Quindi, la riga orizzontale, prende il nome di linea di frazione e la parte al di sopra della riga, prende il nome di numeratore. Mentre la parte inferiore, prende il nome di denominatore. Per esempio, nella frazione, 3 quinti, 3 è il numeratore, 5 è il denominatore. Se poi la frazione A non ha niente davanti, si intende un più, ok? Se invece la frazione è negativa, davanti a va un meno. Se ne so, meno 2 terzi. Questo segno è relativo al valore dell'intera frazione. D'accordo? E può essere ottenuto, ad esempio, da un numeratore negativo o da un denominatore negativo. Tutti sono equivalenti a portare si porta il segno davanti alla linea di frazione, normalmente. Se invece sia il numeratore che il denominatore sono negativi questi due questo equivale a dire meno 3 diviso meno 5 e come abbiamo visto meno per diviso meno fa più questo produce un segno più 3 quinti nel qual caso si può anche omettere dimmi un po' più su sì ok tutto chiaro? procedo? tra le varie frazioni possiamo distinguere quelle proprie in cui chiamiamole così allora il numeratore è un numero intero più piccolo del denominatore esempio 3 quinti è una frazione propria poi ci sono le frazioni improprie dove il numeratore è maggiore del denominatore come per esempio 5 terzi oppure quelli apparenti come per esempio che ne so 6 mezzi in apparenti il numeratore è multiplo del denominatore quindi in realtà gli apparenti sono numeri interi appartengono a z ok un'altra cosa importante è la seguente immaginate di avere una frazione del tipo che ne so 15 ventunesimi qui il numeratore e il denominatore hanno un massimo comune divisore diverso da 1 quindi hanno dei fattori comuni perché 15 se lo scomponiamo in fattori primi è 3 per 5 21 è 3 per 7 quindi i due numeratori hanno il 3 come fattore come le MCD hanno un 3 come divisore comune quando questo succede se le MCD tra il numeratore e il denominatore è diverso da 1 si dice che la frazione è semplificabile o ancora riducibile semplificare la frazione significa quindi rendere il numeratore e il denominatore primi tra di loro ok quindi semplifico la frazione in modo tale che le MCD tra il numeratore e il denominatore sia 1 questo come si può fare? beh ritorniamo alla nostra frazione di prima 15 21 è una frazione propria perché il numeratore è più piccolo del denominatore e quindi scompongo i fattori primi sia il numeratore che il denominatore 3 per 5 diviso 3 per 7 ok e adesso posso utilizzare questa proprietà posso dividere il numeratore e il denominatore per uno stesso numero quindi 3 per 5 diviso 3 e 3 per 5 diviso ancora 3 quindi tolgo il fattore 3 e ottengo scusate qui ho scritto 5 invece di 7 ottengo 5 settimi e questa non è più ulteriormente semplificabile perché 5 e 7 sono primi tra loro qui ho usato quella che si chiama proprietà invariantiva delle frazioni cioè posso moltiplicare o dividere sia il numeratore per il denominatore per uno stesso numero e la frazione non cambia di valore posso moltiplicare o dividere sia il numeratore che il denominatore di una frazione per uno stesso numero e la frazione non cambia valore questa è una proprietà molto importante cioè se ho la frazione a diviso b posso moltiplicare sia a che b per uno stesso numero c oppure dividere sia a che b per lo stesso numero c in questo caso ovviamente c deve essere diverso da zero e qui anche e la frazione non cambia valore questa si chiama proprietà invariantiva è quella che si utilizza per semplificare le frazioni e per cosa semplifico semplifico ovviamente per i fattori comuni cioè per il massimo comun divisore tra numeratore e denominatore dopo che l'ho fatto ottengo numeratore e denominatore che hanno fattori comuni uguali a uno e quindi sono primi tra di loro e quindi la frazione non è più ulteriormente semplificabile si può dire anche che è ridotta ai minimi termini ok attenzione un'altra proprietà importante vale la proprietà distributiva della somma rispetto alla divisione cioè se ho a più b diviso c ok questo mi dà lo stesso risultato che se faccio a diviso c più b diviso c questo si può scrivere di solito anche in questo modo a più b fratto c quando ho questa frazione lunga significa tutto il numeratore diviso il denominatore ok in questo caso a e b sono addendi non sono fattori quindi a e c non sono semplificabili vi spiego meglio consideriamo anzi facciamo così consideriamo questa espressione 3 più 5 diviso 12 questo è uguale a 3 diviso 12 più 5 diviso 12 ovvero sia 3 più 5 al numeratore e 12 al denominatore ok attenzione questa frazione 3 e 12 non sono semplificabili perché perché 3 non è un fattore ma è un addendo ok perché 3 va diviso per 12 ma anche 5 va diviso per 12 in questo caso prima si fa la somma e dopo la divisione proprio perché ci sono le parentesi d'accordo non posso dividere 3 e 12 per 3 ok perché poi 5 rimane orfano del 12 il 3 e il 12 non sono semplificabili in questa frazione lo sono in questa qua si perché questa è una frazione unica però poi il 5 rimane diviso per 12 il 5 deve avere il denominatore 12 come aveva nella prima espressione attenzione a non invertire le due cose però scusi può andare un po' più su alla proprietà invariantiva certo qui va bene un'altra proprietà importante che ci permette di confrontare frazioni diverse è la seguente ditemi quando siete pronti confronto tra frazioni immaginate di avere due frazioni diverse A fratto B e C fratto D e vi chiedete come confrontarle per esempio volete stabilire se A fratto B è più grande di C fratto D un criterio per stabilirlo è il seguente A su B è maggiore di C su D se il prodotto A per D è maggiore del prodotto C per B l'origine di questo criterio vi sarà molto più chiaro a breve quando faremo le equazioni e le disequazioni equivalentemente posso fare il confronto anche con l'uguale se ho due frazioni A su B e C su D queste hanno lo stesso valore se e solo se il prodotto A per D vale quanto B per C o C per B ok cioè il numeratore della prima per il denominatore della seconda vale quanto il numeratore della seconda per il denominatore della prima questo è un criterio che mi permette di confrontare frazioni che non siano evidentemente come dire evidenti quali siano quelle più grandi e quella più piccola per dire per cui per esempio prendiamo l'esempio se ho 4 quinti e 6 settimi quale frazione è più grande dell'altra entrambi sono più piccole di uno ma quale è più grande dell'altro ci chiediamo per esempio se la prima è più piccola della seconda 4 quinti è più piccolo di 6 settimi allora basta confrontare 4 per 7 e 6 per 5 7 per 4 fa 28 6 per 5 fa 30 ed è vero che la prima è più piccola della seconda ok certo prego ci sono domande vediamo una parte cruciale operazioni con le frazioni supponiamo di dover sommare due frazioni per esempio che ne so diciamo quella somma un terzo più 4 terzi qui ok giusto manca una f grazie qui la situazione è abbastanza semplice perché ho lo stesso denominatore in questo caso se il denominatore è identico la frazione sarà una frazione che ha come denominatore lo stesso denominatore dei due addendi e come numeratore la somma dei numeratori quindi 1 più 4 e otteniamo quindi 5 terzi quindi in generale se ho a più b a cui sommo c più b la frazione con b diverso da 0 il risultato sarà una frazione con denominatore sempre b e numeratore a più c idem per la differenza ok qui nessun problema ma se più in generale i denominatori saranno diversi per esempio ho che ne so due quinti più un settimo qui ho i denominatori diversi ok quindi non posso usare la regola precedente a meno che io non mi riconduca la precedente in che modo devo scrivere queste due stesse frazioni in modo che abbiano lo stesso denominatore e quindi devo moltiplicarle per qualche numero opportuno qual è il numero più opportuno? beh sarà il minimo comune multiplo tra 5 e 7 qual è il minimo comune multiplo tra 5 e 7? 5 e 7 sono primi tra loro sarà 5 per 7 35 quindi faccio in modo che ciascuna frazione abbia lo stesso denominatore che sarà il minimo comune multiplo tra tutti i denominatori ma quindi nella prima frazione che ripeto era due quinti per avere 35 devo moltiplicare per 7 sopra ma anche sotto più lo stesso per la seconda per avere 35 devo moltiplicare stavolta per 5 sopra e sotto posso farlo su ogni singola frazione perché vale la proprietà invariantiva e quindi avrò le due frazioni in questo caso come denominatore 35 in entrambe e nella prima avrò il numeratore 14 e nella seconda 5 quindi se volete faccio l'operazione inversa a quella della semplificazione però inversa in modo mirato devo avere il denominatore più piccolo che mi sia utile per fare in modo che i due denominatori siano identici e quindi in questo caso otterrò il caso precedente cioè dove è lo stesso denominatore e quindi posso semplicemente sommare i due denominatori no non 15 ma 14 scusate 14 più 5 19 e questo non è semplificabile non è riducibile ok ecco perché quando si sumano le frazioni si utilizza questa procedura si cerca il minimo comune multiplo dei denominatori che diventa il denominatore comune alle due frazioni si può scrivere con una frazione comune perché? perché usando la proprietà invariantiva posso fare in modo che le due frazioni mantengano ciascuna il suo valore ma abbiano un denominatore che è lo stesso e quindi poi posso sommare il numeratore di quello che ottengo dalla prima più quello che ottengo dalla seconda lo stesso ovviamente vale per la differenza se avessi che ne so anziché due quinti più un settimo due quinti meno un settimo procedo nello stesso modo il minimo comune multiplo tra 7 e 5 è 5 per 7 dopodiché si prende il numeratore della prima frazione si copia qui quindi qui viene 2 per quello che ottengo dividendo il denominatore comune per il denominatore della prima mi rimane 7 e questo va moltiplicato va posto qui poi si ricopia il segno che c'è tra due frazioni meno e si fa la stessa operazione 5 per 7 diviso 7 fa 5 per 1 5 di 1 per 5 quindi ottengo 35 denominatore 14 meno 5 se ho sempre 15 non so perché 14 meno 5 che fa 9 9 35 esimi e il gioco è fatto tutto chiaro? attenzione ai segni proviamo proviamo supponiamo di aver sommare meno tre quarti più due quinti ok? qui la prima frazione ha un segno negativo e questo va rispettato il minimo comune multiplo tra 4 e 5 quindi qui viene 4 4 e 5 facciamo il minimo comune multiplo e va posto il denominatore comune quindi 5 per 4 che fa 20 perché 5 e 4 sono primi tra loro poi qui devo riportare il segno il segno della prima frazione va riportato nel numeratore comune quindi la sequenza dell'operazione è questa 20 diviso 4 per meno 3 quindi meno 3 per 5 poi ricopio anche l'altro segno più 2 per 20 diviso 5 che fa 4 per 2 quindi ottengo 20 il denominatore comune meno meno 3 per 5 quindi meno 15 più 2 per 4 8 quindi avrò una frazione negativa il numeratore viene meno 7 ok e quindi posso lasciare il meno numeratore oppure scriverlo davanti alla frazione meno 7 ventesimi è uguale però il meno va riportato d'accordo? quindi state attenti a dove appaiono i segni e dove si piazzano correttamente un pochettino più semplice è il prodotto e il rapporto tra frazioni immaginiamo per esempio di dover moltiplicare una frazione per un'altra a fratto b per c fratto d in questo caso ottengo una frazione che ha come numeratore il prodotto dei numeratori a per c e come denominatore il prodotto dei denominatori b per d molto semplice in realtà prima di procedere al prodotto è sempre bene ridurre le frazioni ai minimi termini d'accordo? quindi per esempio che ne so il 3 quinti per 2 settimi mi da 3 per 2 che fa 6 5 per 7 35 d'accordo dato che il prodotto è commutativo fatemi riscrivere la stessa proprietà di prima fatemela copiare è chiaro che lo stesso risultato lo avrei ottenuto se avesse avuto scusate questa è troppo lunga avesse avuto a fratto d per c fratto b ok dà lo stesso risultato a c e b d o d b è indifferente perché il prodotto è commutativo perché il prodotto è commutativo questa è la ragione per la quale si dice che si possono semplificare le frazioni in croce vi faccio un esempio se ho 2 quinti per 15 ottavi ok questo mi dà lo stesso risultato che se avessi 2 ottavi per 15 quinti ma qui posso semplificare le frazioni posso dividere per 2 quindi qui ho 1 e qui ho 4 e qui divido per 5 qui mi rimane 3 e qui mi rimane 1 e quindi il risultato è 1 quarto per 3 3 quarti per la stessa ragione si dice che si possono semplificare in croce c'è il 2 con l'8 e il 3 col 5 e il 5 col 15 d'accordo? quindi posso semplificare numeratore e denominatore anche se non appartengono alla stessa frazione prima di rimetterli con lo stesso denominatore quando è già scritta così fatemelo rifare 2 quinti per 15 ottavi posso fare anche questa semplificazione l'1 quarto ottenuto da 2 e 8 e 5 e 15 diviso entrambe per 5 e qui ottengo il 3 e quindi poi ottengo appunto 3 per 1 che fa 3 e 4 per 1 che fa 4 ok per quanto riguarda invece la divisione facciamo un esempio facciamo un esempio quinti diviso 2 settimi ho lo stesso risultato che ottengo facendo una frazione che abbia come numeratore la divisione tra i due numeratori 3 diviso 2 e come denominatore idem 5 diviso 7 ok? però questo posso pensarlo come 3 3 mezzi e 5 settimi d'accordo? per cui ho lo stesso risultato che ottengo facendo la prima frazione 3 quinti per l'inverso della seconda 7 quinti ok? posso cambiare la divisione di moltiplicazione invertendo la seconda frazione quindi 7 mezzi sì scusate ok quindi dividere due frazioni A fratto B diviso C fratto D è equivalente a prendere la prima frazione A fratto B e moltiplicarla per l'inverso della seconda ovviamente posto che tutte le frazioni siano calcolabili cioè che nessuna abbia denominatore nulla e in ogni caso quando si scrive appunto A fratto B o C e D D si intende tutto il denominatore ok? cioè con tutti i termini che contiene non è detto che sia sempre un numero solo vediamo se mi ricordo se c'è qualcosa altro da dire l'ultima operazione che vediamo è la potenza ma questa l'avevamo già vista quando abbiamo fatto le proprietà delle potenze se è una frazione A fratto B elevato alla N questo equivale a fare la potenza di A e dividere per la stessa potenza di B quindi ad esempio se ho un terzo alla seconda questo è 1 al quadrato diviso 3 al quadrato cioè nonno oppure 3 quinti alla terza questo è 3 alla terza diviso 5 alla terza 27 su 125 e così via anche in questo caso ovviamente se elevassi alla 0 otterrei 1 per lo stesso motivo già detto basta che la base della potenza non sia 0 la potenza elevata alla 0 fa 1 domande fin qua ok molto bene niente direi che per oggi ci possiamo fermare qui la prossima volta faremo un po' di esercizi vediamo se ce ne è già poi quello che si può fare fatevi cercare rapidamente per esempio vediamo se riusciamo rapidamente a farne 1 in questo esercizio calcoliamo i valori di questa espressione parentesi tonda un terzo meno un dodicesimo chiusura tonda diviso un mezzo meno un quarto un po' di esercizio dato la struttura delle parentesi dobbiamo sommare prima quanto contenuto all'interno delle parentesi e dopo fare la divisione quindi la prima parentesi ha due frazioni il denominatore è 3 l'altro è 12 calcoliamo il minimo comune e multiplo tra 3 e 12 allora 3 è un numero primo 12 è 3 per 2 alla seconda quindi minimo comune e multiplo è direttamente il 12 fattori comuni e non comuni con la potenza più alta quindi nella prima frazione usiamo il minimo comune e multiplo 12 che è il denominatore comune poi 12 diviso 3 fa 4 per 1 4 poi riporto il segno meno 12 diviso 12 fa 1 per 1 1 possiamo tenerlo tra parentesi o anche non mettere le parentesi in differente poi nella seconda parentesi ho 2 e 4 4 è multiplo di 2 quindi il denominatore comune sarà 4 4 diviso 2 fa 2 per 1 2 meno 4 diviso 4 fa 1 per 1 1 quindi avremo nella prima parentesi 12 denominatore numeratore 3 poi diviso nella seconda avremo 2 meno 1 che fa 1 diviso 4 qui la prima possiamo già semplificarla 3 e 12 possiamo dividere per 3 sopra e sotto e se dividiamo per 3 abbiamo sopra 1 e sotto 4 quindi abbiamo un quarto diviso un quarto e un numero diviso a se stesso fa 1 oppure se preferite un quarto per 4 fratto 1 di 2 4 si possono semplificare e quindi abbiamo 1 per 1 che fa 1 un'altra cosa che non vi ho detto che invece forse era meglio ripetere è nota bene qualunque numero intero a posso sempre pensarlo come a fratto 1 ogni numero intero ha come è pensabile come una frazione con denominatore 1 quindi per esempio se sommo 3 più 2 5 ok è come sommare 3 fratto 1 più 2 su 5 e quindi il denominatore comune in questo caso è 5 5 diviso 1 5 per 3 15 più 5 diviso 5 1 per 2 2 quindi ho 17 15 come risultato della somma ok se non ci sono domande per oggi ci possiamo fermare qui 5 6 6 6 7 8 9 10 10